Siamo qui ai Diversity Media World, secondo te cosa manca ancora affinché ci possa essere realmente un'inclusione nel nostro paese? Allora che cosa manca? Mancano gli strumenti, ci sono tanti però mancano ancora gli strumenti perché la società sta andando a una velocità che è importante e bisogna praticamente un tanto fermarsi capire che questi strumenti che stanno dando a noi ci facilitano come hanno fatto adesso con le lampadine e caramella, ci è andata la possibilità che noi con l'usabilità possiamo comprire i nostri sogni e questo è un metodo che invita tutti quanti, ragazzi guardate questo che stiamo facendo adesso, perché questo oggi è il momento, tutti gli strumenti che possono fare per semplificarci la vita, per fare sì che i nostri sogni siano realtà, siano realtà, vanno inclusi in questa nuova società, quindi contiamo su di voi, le lampadine caramella e le semne, grazie. Beh manca tantissimo, manca il fatto che spesso si parla e si mettono al centro delle storie delle minoranze all'esempio, però lo si fa a volte nel modo sbagliato, lo si fa trattando queste storie con questi personaggi con vittimismo ad esempio, oppure non essendo adeguatamente preparati, quindi magari anche quando si ha attenzione a due cause manca una preparazione più profondita. Grazie. 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 Grazie.